bene rieccoci col terzo episodio su come coltivare l'aglio non specifico l'aglio monobulbo come potete vedere due sono cresciuti sono cresciuti una trentina di centimetri se non addirittura di più mentre gli altri che sono qua e un paio sono di là non sono cresciuti per niente proprio stanno ancora dormendo sono ancora in letargo diciamo un altro sta spuntando adesso sta germogliando adesso come potete vedere non si riesco a mettere a fuoco eccolo e quindi con la differenza tra questi non germogliati non cresciuti e questi qua a un certo punto questi due li ho messi fuori quindi qua fuori qua in giardino mentre gli altri sono rimasti dentro in questa specie di cantina che ho e sono passati da quanto da quando li ho piantati più o meno tre quattro mesi piantati verso fine gennaio inizio febbraio e questi qua li ho messi fuori probabilmente dopo un mese o due mentre questi li ho messi fuori dopo tre mesi più o meno tre quattro mesi diciamo comunque se ce l'hanno fatta crescere mentre questi qua magari cresceranno nel prossimo mese magari qualche settimana ancora con la temperatura si sta scaldando un po' magari poi inizierà a piovere un po' di più ed ecco questi qua praticamente come ho detto li ho messi fuori e non li ho più guardati perché ho detto l'esperimento non è andato a buon fine gli agli non crescono sono tutti morti invece poi sono cresciuti da soli cioè praticamente li ho messi fuori non li ho neanche bagnati più di tanto solo con la temperatura fino inverno primavera si sono adattati probabilmente alla temperatura e sono cresciuti sono germogliati molto bene come potete vedere mentre questi qua appunto dopo un mesetto due ho smesso di bagnarli ho detto vabbè sono andati però adesso vediamo se riusciranno anche questi qua a crescere quindi a questo punto non mi resta che piantarli facendo attenzione bene a preservare queste radici qua qua sotto e soprattutto se vi dovesse capitare di farli crescere in un vasetto del genere e soprattutto se li mettete fuori quindi a contatto col terreno fate attenzione perché loro tendono poi a continuare a crescere quindi tendono tendono a fare le radici ad andare sottoterra diciamo continuare nel terreno non restano qua dentro quindi si crescono troppo poi quando li staccate da qua rischiate di rompere tutte le radici quindi fare attenzione con il lumacotto qua dentro tra l'altro e il lumacotto sa che di cambiare casa è e nulla adesso li pianto l'interro e tra qualche mese magari farò episodio numero 4 quindi quarto video sperando che abbiano dato qualche frutto che abbiano fruttato che abbiano prodotto qualcosa diciamo e poi vedrò questi se se ce la fanno a crescere tutto qua come detto ci ha messo più o meno un due tre mesi a germogliare così che due tre quattro mesi e nulla tutto qua la prossima